Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere quali sono i movimenti della borsa, della finanza, degli investimenti. Andiamo a vedere un pochettino com'è l'energia nel mese di aprile per quello che riguarda i movimenti finanziari. Allora abbiamo tre scelte, la prima è questo tempio, lo chiamerei, la seconda scelta è, sembra una sfera con dei pesci dentro e potrebbe anche essere giustamente la luna ragazzi perché qui abbiamo la luna come dettaglio perché i pesci sono collegati all'acqua e quindi al divino femminile. E poi abbiamo il forziere con il denaro. Quindi potete scegliere o in base alla figura o adesso andiamo a vedere i segni zodiacali. Per la prima scelta abbiamo scorpione, gemelli, sagittario e vergine. Per la seconda scelta abbiamo cancro, pesci, bilancia e ariete. E per la terza scelta abbiamo acquario, capricorno, leone e toro. Bene, vi ricordo che per quello che riguarda la scelta dei segni zodiacali risuona sempre un pochettino di più l'ascendente piuttosto che il segno zodiacale, perlomeno questo è nel mio caso. Provate anche voi magari a ascoltare prima l'ascendente ed eventualmente dopo il segno zodiacale. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima scelta. Andiamo a vedere i movimenti economici del periodo. Ragazzi, queste sono pure e semplici letture energetiche. Se per caso dovete fare dei movimenti finanziari importanti, ovviamente affidatevi ad un consulente esperto. Bene, vi ricordo che comunque potrebbe anche non risuonare tutto, se non risuona proprio nulla o se volete completare il messaggio potete anche ascoltare una delle altre stese. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile. Allora partiamo con un matto. La temperanza è volata una carta che dopo recupero. Asso di spade. Cavaliere di bastoni. 2 di coppe. Ok. Recupero la carta che è caduta. Allora 2 di coppe, regina di spade, cavaliere di coppe e qui c'era una sacerdotessa. ok ragazzi. Allora da un lato ho la sensazione che potreste iniziare nel mese di aprile qualche cosa di nuovo anche se ho come l'idea che non sappiate bene da che parte andare cioè che direzione dare a questo qualche cosa di nuovo però con il matto e l'asso di spade devo dire che come se ci fosse una nuova energia un nuovo ordine mentale magari non si sa tanto l'obiettivo finale quale potrebbe essere però si si sa insomma quali sono i prossimi passi allora qui è il come muoversi secondo me la cosa importante in questo mese di aprile per quello che riguarda gli investimenti ragazzi nuovi quindi ho come l'idea che qui qualcuno prenderà parte di quello che ha risparmiato investito per iniziare qualche cosa di nuovo vi dico il settore del del mercato immobiliare potrebbe avere dei saliscendi potrebbero essere diciamo un buon settore per investire perlomeno nel mese di aprile a ragazzi nel mese di aprile c'è mercurio retrogrado dal primo al 24 25 adesso non ricordo bene però normalmente si consiglia quando c'è mercurio retrogrado di non iniziare niente di nuovo di non firmare nessun contratto perché quando mercurio retrogrado è più un periodo diciamo indicato per rivedere certe cose per vedere come correggere il tiro piuttosto che per iniziare qualche cosa di nuovo ok questo ve lo do a titolo informativo poi sono sicura che se cercate in qualche sito di astrologia trovate molte più informazioni per quello che riguarda per quello che riguarda diciamo il lavoro settore commerciale tutto quello che possono essere la domanda e l'offerta che creano un po il mercato degli scambi se vogliamo devo dire che anche lì ad aprile saranno un po altalenanti le cose come vi dicevo all'inizio e non è tanto il muovervi ma il come muovervi perché a livello di movimento voi vi muovete o avete intenzione state pensando insomma volete far qualche cosa in più però ho come la sensazione che dobbiate fare una sorta di strategia soprattutto se siete di quel gruppo di cui parlavo prima che prendono da quello che hanno già per investire in cose nuove aspettate un attimo anche perché qui avete la sacerdotessa al contrario e qualche cosa mi dice che non avete del tutto le idee chiare aspettate almeno fino alla fine di aprile se potete adesso andiamo a vedere una carta sola per ognuna di queste ok allora il matto è spiegato da un 5 di bastoni di nuove della temperanza da un 9 di bastoni la sacerdotessa dalla forza lasso di spade dal 10 di denari e dalla regina di denari andiamo col cavaliere di bastoni diamanti diamanti diamo col due di coppe 7 di pentacoli andiamo con la regina anche qua vi dicono di aspettare a far accordi e ragazzi aspettate a far accordi guardate c'è mercurio retrogrado allora tutto quello che riguarda i nuovi investimenti i nuovi contratti le cose nuove e qui è un po come se vi se vi consigliassero di aspettare effettivamente prima di un po perché avete bisogno come di tutelare gli investimenti possedimenti il vostro gruzzolo diciamo che sia i liquidi che sia come sia sia avete prima bisogno di tutelare le vostre risorse già esistenti e se poi avete quest'idea di intraprendere un qualcosa di nuovo vi dico che sarebbe meglio prima farsi una sola perché c'è qualche cosa che non vedete con questo 4 tico il contrario e per quello che è necessario che è necessario insomma avere una strategia un ordine mentale un programma di lavoro anche programma di investimento strategia di investimento allora per quello che riguarda come vi dicevo i nuovi commerci contratti le nuove cose così è come se non vedeste chiaro quindi non azzaro magari con certo vedete che cosa propone il mercato però aspettate a fare accordi non prendete decisioni per quello che riguarda ragazzi gli investimenti tipo i bitcoin piuttosto che la borsa devo dire che sono ben aspettati anche se in un prossimo futuro dovrò separare suppongo le due voci perché non vanno di pari passo però come la sensazione che avrete dei buoni risultati in questo mese di aprile ci saranno come dei dei risultati dei premi c'è un qualche tipo di abbondanza che arriva nel mese di aprile in questo senso niente ragazzi allora per fare un sorta di riassunto devo dire che potrebbero esserci dei temi inerenti i possedimenti che già avete il risparmio piuttosto che non so potrebbero essere anche le aziende in realtà anche se questo è più economia non è tanto lavoro però sento che vanno abbastanza bene vanno abbastanza bene ma se da lì volete attingere per creare qualcosa di nuovo ecco aspettate la borsa bitcoin quelle cose li sento che stanno più che bitcoin sarebbero gli effetti però va bene sta salendo tutto sta salendo tutto per quello che riguarda ragazzi se qualcuno dovesse affrontare perché continua a vedere una casa allora se qualcuno dove guardate cosa c'è sotto l'imperatore che parla di quattro stabilità e casa se qualcuno dovesse vendere o fosse in procinto di vendere anche lì aspettate maggio aspettate che mercurio fine aprile l'ultima settimana aprile sperate che mercurio retrogrado si tolga dalle scatole e tutelatevi bene tutelatevi bene cioè fate fare tutti i controlli necessari e via dicendo leggete bene il contratto va bene ragazzi andiamo a vedere una carta di osho devo dire che comunque se mettete nero su bianco se vi fate una specie di io sono quella che viaggia schemi mi faccio gli schemi tipo di quale date e di qua il che cos'è no se per esempio l'investimento se per esempio e lì scrivo quanto frutta e quanto invece spendo per creare quelli quella fonte di guadagno se per esempio fosse la casa ok fate il conto di quello che potreste magari risparmiare scusate guadagnare con un affitto se comprare voleste comprare una casa sotto forma di investimento per metterla a rendita con l'affitto però dovete fare un conto appunto tra quanto potete chiedere d'affitto in un anno e quanto effettivamente vi costa ipotesi il mutuo ipotesi le tasse per la seconda casa e queste cose qua e vedere se il gioco vale la candela è tutto un po una fare una strategia questo mese di aprile ok perché perché comunque adesso siete in una fase ancora dove non vedete chiaro e invece avete bisogno di schiararvi le idee però a fine mese arriva allora qui abbiamo momento per momento con gli arcani di osho e morale che è una regina di spade ragazzi ci vuole rigidità fatevi voi le regole che vadano bene a voi ma poi seguitele con rigidità se per esempio vi state avventurando nelle vendite non lo so per esempio in drop shipping piuttosto che nel mercato della borsa per la prima volta investite somme molto piccole e osservate quello che non riuscite a vedere adesso è la visione di insieme perché sono due carte che mi dicono che qui la visione è tra virgolette limitata però vi dico qui vi danno il consiglio di procedere momento per momento di fare un passettino alla volta anche perché domani io ho più chiarezza so più cose di quelle che so oggi dopo domani saprò ancora più cose avrò un'idea ancora più chiara però qui ragazzi si è stata di seguire le regole di fare un passo alla volta fondamentalmente ok va bene amici della prima scelta io spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti fatemelo sapere con un like se volete sostenere il canale potete anche iscrivervi o condividere il video se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale investite sempre con parsimonia con coscienza mi raccomando io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenute alle persone del secondo gruppo andiamo a vedere anche per voi movimenti energetici per il mese di aprile ragazzi queste sono letture energetiche se per caso dovete fare investimenti importanti o movimenti finanziari di un certo tipo vi raccomando di affidarvi ad un esperto del settore che vi sappia consigliare al meglio ok se poi questa lettura non dovesse risuonare per niente potete sempre ascoltare una delle altre due scelte e sotto nella descrizione trovate i link a video che potrebbero interessarvi bene andiamo a vedere ok partiamo con un mago un 3 di spade un matto fante di pentacoli re di bastoni 3 di bastoni e diavolo adesso andiamo a vedere un po il movimento così poi andrò a estrarre ancora una carta per ognuna dunque ragazzi devo dire che qui sento aria di novità vi dico che se per caso l'anno scorso comunque nei mesi precedenti avete già investito per quello che riguarda diciamo quello che avete già fatto potreste iniziare nel mese di aprile a vedere i risultati guardate si è già girata la carta la metto potresti iniziare a vedere già i risultati di quello che avete seminato si tratta di allora per qualcuno potrebbe essere una chiamata visto che abbiamo la carta del giudizio una notizia un qualche tipo di non ho nessuna carta qua che me lo dice ma sento che potrebbe essere qualche eredità qualche questione legata non necessariamente al vostro possedimento ma a qualcuno di vicino a voi al vostro sì vi dico c'è qualche novità qualche inizio per quello che riguarda il patrimonio familiare mi viene da dire anche se per qualcuno non risuona come quello familiare risuona come il proprio patrimonio personale però comunque il tre di spade guardate si è girato questo re di coppie mentre stavo andando a questa carta quindi la tengo ho come l'idea che qui ci sia da staccarsi da delle questioni familiari se fosse l'eredità di cui vi ho parlato prima c'è da prendere provvedimenti o come questa questa sensazione c'è come da mettere da mettere le mani su certe situazioni che magari fino ad adesso non sono proprio state gestite al meglio devo vedere il matto 5 di pentacoli ragazzi vi raccomandano prudenza prudenza nelle spese perché un 5 di pentacoli di solito è una carta di perdita finanziaria e qui potrebbero esserci delle scelte degli acquisti degli investimenti fatti in modo un po troppo impulsivo probabilmente perché qualcuno vuole uscire da un certo tipo di situazione sta pensando a come poter elaborare o come poter lavorare per uscire da questa situazione ma date tempo al tempo perché l'impulsività l'ingenuità potrebbe portarvi a o investire più di quello che in realtà potete investire oppure ad investire in progetti che magari non sono proprio così remunerativi andiamo a vedere il fante di pentacoli la torre è come se doveste addentrarvi di più su un certo tipo di tema prima di fare questi passi di cui ci parla il matto in avanti onde evitare queste potenziali perdite con la carta del fante di pentacoli è come se vi consigliassero di togliervi dalla testa certe idee di approfondire il tema prima vado a vedere il re poi vado a vedere settore per settore specificatamente allora re di bastoni spiegato da un berra di pentacoli allora qui ci potrebbero essere fisicamente due uno o due personaggi intorno a voi che in un certo senso vi impediscono di muovervi di espandervi di andare per la vostra strada ed è da lì che sento questo bisogno di distacco dall'altro devo dire che potrebbe essere questa impulsività che vi porta a non essere troppo ponderati si guardate mi manca una regina di spade perché è come se sentissi di dirvi che avete bisogno di imparare a gestire la vostra energia sia fisica che economica le vostre risorse e come se avessi bisogno di padronaggiare meglio la materia per quello che qui vi consigliano di mettervi a studiare di come vi posso dire fare una sorta di restyling per quello che riguarda le idee che avete su questa nuova iniziativa che volete intraprendere andiamo a vedere il 3 di bastoni cavaliere di bastoni allora tenete presente che ad aprile c'è mercurio retrogrado e quando c'è mercurio retrogrado si consiglia di non iniziare niente di nuovo perché è più un periodo diciamo così da appeso per rivedere certe cose capire come è meglio procedere che cosa togliere che cosa mettere e via dicendo quindi quello che sento qui è che vi dicono di sì creare dei progetti fare come un programma però non muovetevi ancora andiamo a vedere il diavolo 5 di coppe andiamo a vedere un'altra carta per questo diavolo e 9 di pentacoli si ragazzi siate molto 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 prudenti perché qua vedo che potrebbero esserci delle delusioni anche economiche ragazzi se per caso avete qualche progetto con altri può essere che sentirete il peso sulle vostre spalle qualsiasi sia il progetto c'è comunque un diavolo e c'è 9 di pentacoli al contrario e c'è un 5 di coppe io credo che molte persone penseranno o si ritroveranno incastrate in una situazione dalla quale potrebbe essere un po difficile uscire non impossibile un po difficile ma per una questione economica avete sia 5 di pentacoli che il 2 che il 9 di pentacoli per qualcuno e il fare il salto in nella direzione che voi volete fare potrebbe essere limitato dal fatto che avete già un lavoro di tipo dipendente per altre persone fare questo tipo di investimento comunque di salto da soli sento che vi spavente quindi tendete ad associarvi con altre persone però non la sento una cosa positiva perché poi di condizionerà allora partiamo dalla borsa stavolta per quello che riguarda la borsa e per quello che riguarda diciamo gli investimenti online quindi anche bitcoin anche se poi non vanno di pari passo devo dire che sfruttate mercurio retrogrado non comprate in questo periodo piuttosto osservate come va il mercato come va la borsa come scusate l'andamento finanziario poi per quello che riguarda diciamo i mercati commerciali gli scambi commerciali diciamo così le trattative e cose di questo genere allora potrebbe esserci una forte spinta in avanti però anche qui imparate a gestire bene scusatemi quelle che sono le vostre risorse soprattutto economiche e il vostro tempo perché potrebbe esserci un inizio molto come vi posso dire diciamo il grafico potrebbe partire molto in alto e poi piano piano scendere ma scendere sempre di più ok quindi anche lì sfruttate battete il ferro finché caldo mi viene da dire perché poi le cose potrebbero non essere così positivo verso la fine del mese per quello che riguarda invece diciamo gli immobili gli investimenti immobiliari e cose di questo genere e ragazzi li fate attenzione in qualche modo potrebbe esserci una ridimensionamento dei prezzi per chi sta cercando di vendere palazzi o di vendere grandi 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 case chiamiamole così grandi strutture non mi veniva la parola il consiglio qui è di cercare imprenditori che abbiano dipendenti da ospitare quindi lavorare con gli imprenditori che abbiano tanti dipendenti che da lunedì al venerdì si fermino a dormire vicino dove c'è l'azienda insomma questo non risuonerà per tutti ma magari per qualcuno aiuta ragazzi per quello che riguarda loro vi dico che potrebbe potrebbe esserci un leggero rialzo poi vabbè anche lì sapete che è sempre tutto fluttuante voglio un'altra carta per questo 9 di pentacoli 4 di coppia guardate ragazzi tra questo 5 di pentacoli 9 di pentacoli se per caso dovete chiedere dei soldi in prestito o in qualche modo perché diavolo fa riferimento un po all'illegalità anche no fate attenzione perché potreste avere una perdita insomma con tutto quello che è di facile guadagno o per chi in qualche modo stesse cercando magari di risparmiare dei soldi su delle spese su delle tasse o cose di questo genere fate attenzione fate le cose in regola perché potrebbe poi generare una perdita questo atteggiamento ok va bene andiamo a vedere osho che cosa vi consiglia armonia innocenza e noi siamo il mondo si fate le cose in modo da essere in armonia con il cuore con la testa in allineamento coerenti quello che volete fare da dentro con quello che dite con quello che pensate guardate ragazzi comunque questa carta qua la carta dell'innocenza è una carta che vi esorta a mantenere l'entusiasmo per il nuovo senza perdere quella saggezza che avete acquisito cioè senza credere in tutto e per tutto quello che vi raccontano gli altri ma cercando di sviluppare voi una vostra verità un vostro capo una vostra capacità di discernimento di giudizio di capire ma questo me la sta raccontando è veramente così fate chiedete sempre quando vi propongono di nuovi investimenti chiedete i numeri alla mano prendetevi il tempo di controllare come si deve mi parlano di ristoranti non so se qualcuno deve investire in un nuovo ristorante o fatemi vedere allora quello che vi posso dire è di controllare i debiti che ha creato questo ristorante prima di acquistarlo questo è un ristorante può essere un fast food un bar qualsiasi luogo commerciale dove si vende cibo una gastronomia va bene cari amici spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo comunque sapere nei commenti se volete sostenere il canale mettete un bel like oppure iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un grande abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenuti anche le persone del terzo gruppo andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per l'economia la finanza la borsa per il mese di aprile ragazzi queste sono semplicemente letture energetiche qualsiasi tipo di movimento finanziario importante che dobbiate fare ovviamente affidatevi ad un esperto del settore questa vuole essere una semplice guida bene andiamo a vedere l'energia disponibile abbiamo un cavaliere di bastoni un matto la luna la temperanza 8 di pentacoli asso di pentacoli e 3 di coppia ragazzi allora devo dire che le carte non sono male anzi ci sono dei nuovi inizi questo bellissimo asso di pentacoli c'è il matto come l'idea che qualcuno inizia a muoversi per creare un proprio patrimonio e come ok basta adesso sono io che devo diventare responsabile per me stesso e di conseguenza pensare un mio futuro o al futuro della famiglia ipotesi siete in una coppia solida e stabile e siete abituati a ragionare insieme insomma ecco l'unica nota un po così potrebbe essere la luna credo che faccia riferimento oa qualche paura oa qualche sorta di disillusione adesso andiamo poi a vederlo estrarò una sola carta e poi giusto per spiegare un po meglio e poi andiamo a vedere settore per settore ok quindi il mercato immobiliare piuttosto che finanza piuttosto che bitcoin e vi dicendo i nuovi progetti mercato i mercati insomma come si dice mercati commerciali compravendite bene servizio allora il cavaliere di bastoni e spiegato da un fante di coppe andiamo con il matto 8 di pentacoli io credo che qui qualcuno ragazzi sarà coinvolto nell'iniziare un qualche cosa di nuovo se per caso avete del denaro risparmiato vi dico che potrebbe arrivarvi un'offerta di investimento o potreste comunque valutare vi potrebbe venire un'idea per quello che riguarda un investimento e vi dirò che potrebbe anche essere un buon investimento di maltemperanza andiamo con lotto di pentacoli andiamo con l'asso di denari e il 3 di coppa ok qui abbiamo re di coppe sette di coppe temperanza e fante di bastoni allora ragazzi partiamo dagli investimenti allora come vi dicevo ho come la sensazione che o vi verrà un'idea nuova su come investire oppure se per caso avete proprio già in testa l'idea di comprare una una casa una struttura del mattone sento che troverete anche una buona occasione dove non c'è da fare troppi lavori a questo edificio ho parlato di edificio va bene anche come casa ma lo sento più come edificio magari un edificio per il lavoro volete comprare un magazzino dove mettere la sede del vostro lavoro ipotesi invece che stare in affitto devo dire per quello che riguarda gli scambi commerciali piuttosto che le compravendite se per esempio vendete qualche bene qualche prodotto o qualche servizio o siete comunque guadagnati insomma da quelle fonti ragazzi io come la sensazione che ci sia un lato della medaglia che non stiate prendendo in considerazione quindi vi direi di approfondire un pochettino sento in realtà che se state guadagnando da quel settore quindi dagli scambi commerciali ipotesi siete un po presi dall'ansia sento questa cosa qua perché è come se non vedesse i risultati ma non vedere i risultati subito non vuol dire che non stiano arrivando magari sono lenti magari ci mettono un po però ecco vi dirò potreste essere un pochettino frustrati nel mese di aprile perché non vedete vedere non vedete arrivare i risultati che voi vi aspettate ecco questo sì ve lo posso dire per quello che riguarda gli investimenti in borsa quindi azioni bot e ft e bitcoin anche se poi so che non vanno di pari passo però devo dire che non va malaccio ragazzi devo dire che è un buon periodo ci sono come dei guadagni diciamo che non sono grossissimi guadagni però è in una fase stabile come se fosse un guadagno costante allora gli investimenti all'oro non ho detto allora per quello che riguarda loro ragazzi devo dire che potrebbe esserci dipende anche lì gli investimenti in metalli in queste cose qua in materia grezza diciamo che avete però devo dire che potrebbe esserci ecco possiamo metterla così oro materie grezze e fonti rinnovabili di guadagno di energia che creano guadagno ecco sempre per parlare di tutto quello di tutto quello in cui uno può investire no per creare reddito passivo comunque devo dire che ci saranno nuove proposte nuove mi viene da dire anche scoperte tipo che qualcuno vi dice ma sai c'è anche quella cosa lì che investendo un minimo tu non devi fare niente e piano piano genera i tuoi ingressi passivi ecco questo arriverà questo sento che arriverà il punto che dovete mettervi con costanza con dedizione non è il tanto non è il lavoro da otto ore al giorno per un lavoro che va fatto poco ma sempre quando si tratta di redditi passivi in questo caso no allora devo dire che un consiglio che vi danno è in qualsiasi cosa nuova vi stiate mettendo prima di tutto occhio alle proiezioni perché avete sette di sette di coppe luna e quattro di coppe quindi io come la sensazione di un po come se vi dicessero rimanete con i piedi per terra comunque va bene l'offerta è buona perché effettivamente l'offerta che vi faranno sarà molto buona potrebbe appunto essere un'offerta di ristrutturare qualche cosa che voi avete per dare vita a una nuova attività potrebbe essere un'offerta di rendita passiva potrebbe essere quell'offerta immobiliare di cui vi parlavo e comunque è una cosa molto buona ma è un po come se vi consigliassero di andare con prudenza spendete solo nel momento in cui c'è effettivamente bisogno di comprare quell'attrezzatura quel tipo di materiale eccetera eccetera però devo dire che le cose ragazzi porteranno a un risultato molto presto fine aprile c'è questo 3d coppe che la carta proprio del raggiungimento degli obiettivi il raggiungimento dei risultati quindi molto 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 bene che altro vi devo dire penso sia tutto andiamo a vedere ok amanti e la pazienza che è un 7 di denari qui avevate 7 di coppe ragazzi equilibrio armonia vi dico qui la pazienza viene raffigurata come una donna incinta e si può proprio parlare di questo nuovo progetto di cui ho accennato fino ad adesso vi dico con la carta degli amanti e due volte la carta della temperanza sento che comunque un periodo piuttosto in armonia non ci sono questi alti e bassi non ci sono perdite finanziarie non ci sono spese impreviste state sereni è un buon periodo il mese di aprile ok bene cari amici della terza scelta spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti perché per me è importante saperlo se comunque volete sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao